Mi ha chiamato il testo, che non c'è una ragione, quando c'è che ha un po' il testo. È come un mercato di passione, o una cosa rossa, mi ricordo di un amore. Ci cambia le noci e la cia, se avessi avuto un bambino, non c'è un calcetone, adesso che se va a trovare il calore, mi ricordo di un amore, mi ricordo di un amore, mi ricordo di un amore. Mi ha chiamato il calcetone, mi ricordo di un amore, mi ricordo di un amore, mi ricordo di un amore, mi ricordo di un amore. Grazie. Grazie.